Temptation Island Vip La fidanzata di Stefano Bettarini a chiedere il falò di confronto, a spingere la 24enne, di 22 anni più giovane del compagno, è stato il comportamento di quest'ultimo ritenuto nel rispetto su nei suoi confronti e soprattutto per la mancanza che avverte Nicolò. La produzione chiede a Stefano Bettarini se vuole raggiungere la fidanzata al falò di confronto, stando alle prime indiscrezioni che trapelano sul web l'ex falciatore non si sarebbe presentato, ma ritenendo conclusa la propria esperienza a Temptation Island Vip, ovviamente la decisione scatena la rabbia in fianco di Nicolò.Punto per vedere cosa accadrà bisogno, però, attendere un TV prossimo 25 settembre. .